Con noi Gabriel la terza vittoria consecutiva, forse questa è la cosa più importante in questo momento? Assolutamente, la cosa più importante è perché lavorare quando si vince è anche meglio, però dobbiamo stare sul pezzo. Piedi per terra, approfittiamo queste due settimane per lavorare tanto, sistemare ancora delle cose che dobbiamo sistemare, fare meglio quello che stiamo facendo bene. Quindi niente, dai, continuiamo. Oggi hai fatto una parata straordinaria, ce le racconti? Le parate, dai, sono belle, però la cosa più importante è la gestione della partita, la cosa più importante è il lavoro di reparto, la cosa più importante è la squadra. Quindi io sono consapevole della squadra che siamo, sono anche contento di poter aiutare, però la più importante è il gruppo. Nel finale ti sei trovato davanti a quattro attaccanti nel colzone, ma la difesa ha detto benissimo. Che minuti sono stati quelli finali dove il pubblico ha sofferto, ma voi invece avete continuato a fare la vostra partita? Sì, siamo stati molto bravi perché siamo entrati in campo già sapendo che ci capiterebbe dei momenti dove dovevamo soffrire. E quindi i momenti sono stati perché abbiamo giocato con una squadra che è forte, il Crotone è forte. Siamo stati lì, abbiamo sofferto tutti insieme, quindi bravi, i complimenti per tutto il reparto, ma anche gli attaccanti che ci aiutano tanto, i centrocampisti. E quindi continuiamo a lavorare, non ci sono tante parole, discorsi, c'è il lavoro, c'è sistemare tante cose, però fare questo quando si vince è molto meglio. Grazie.